Cominciare con l'argomento di oggi. Per concludere in bellezza, ho pensato di proporre questa volta un tema un po' più specifico, così una volta tanto riusciamo a approfondirlo un po' meglio. Quest'oggi vi voglio parlare di una composizione tra le più famose della letteratura egiziana che è il libro dei morti. Sicuramente l'avete sentito nominare e il titolo che ho dato alla lezione non è altro che il titolo egiziano, il titolo che gli egiziani davano a questa composizione, cioè formule per uscire alla luce del giorno. Vedremo adesso perché gli egiziani davano questo titolo. Come al solito vi segnalo alcune possibili letture prima di cominciare. Per fortuna siamo abbastanza forniti di test in italiano questa volta, addirittura il primo libro, questo di Boris de Rakevils, è disponibile su internet. Il testo l'ho trovato per caso ma c'è ed è appunto, si può leggere tutto il libro, quindi senza neanche perché è un'edizione del 1986 quindi cominciava a essere difficile da trovare, ma qualcuno ha pensato di fare un'opera buona e di batterlo a computer e di renderlo disponibile. È una pubblicazione un po' datata per cui è una traduzione di tutti i capitoli del libro dei morti del papiro di Torino e purtroppo appunto, essendo un po' datata, non è sempre affidabilissima, però è ottima per farsi un'idea del contenuto generale di questo testo. Più scientifico, insomma più preciso sicuramente, è il libro di Gloria Rosati, docente all'Università di Firenze, che prende in esame due papiri, due altri papiri di Torino, questi di Tachered e Isi e Machbit, che sono più brevi però sicuramente con i capitoli introduttivi fornisce un quadro sicuramente più completo. E l'ultimo dovrebbe essere un libro invece più illustrato di un'autrice inglese, che fortunatamente una volta tanto tradotto anche in italiano, visto l'interesse dell'argomento, e che si basa invece su tre papiri del libro dei morti che sono custoditi al British Museum. Quindi qui avete un'ampia scelta. Il libro di Emily Rossiter si trova alla Biblioteca Universitaria di Trieste, per cui è facilmente accessibile anche tramite la biblioteca civica con il prestito interbibliotecario. Il libro di Gloria Rosati non è nelle biblioteche, però si può ordinarlo e costa circa 10 euro, quindi insomma non è proibitivo. Non vi preoccupate se non avete, se non siete ancora riusciti a prendere nota, perché vi riproporrò la bibliografia alla fine della lezione, quindi tranquilli. Intanto cominciamo. Questa composizione, che è una composizione funeraria, come il nome Libro dei Morti già dice, non è ovviamente, come tutte le cose, sorta dal nulla. I suoi, come li ho chiamati, antenati, sono due composizioni, di cui la prima, la più antica, è quella che viene definita testi delle piramidi. Ora, cosa sono i testi delle piramidi? I testi delle piramidi sono una raccolta di formule, proprio di formule magiche, che sono iscritte sulle pareti delle camere delle piramidi della fine dell'Antico Regno. Ora, per darvi dei riferimenti più precisi, il primo esempio di questi testi si trova nella piramide di Unas a Saccara, che risale alla Quinta Dinastia e, come vedete, dalla Didascalia, quindi al 2350 a.C. circa. Questo è il primo esempio, lo vedete, questa è proprio la camera funeraria della piramide di Unas, ci sono queste decorazioni che vengono definite a facciata di palazzo, e qui vedete dei geroglifici in verde, e sono proprio alcune di queste formule. Ora, le formule dei testi delle piramidi erano riservate inizialmente soltanto al sovrano, ed avevano lo scopo di garantire la sopravvivenza del sovrano nell'eternità, ovviamente nell'aldilà. Ma in quest'epoca l'aldilà era ancora concepito come trovarsi in cielo. In realtà le formule ci spiegano come il defunto dovesse salire in cielo e identificarsi con quelle che noi chiamiamo ora le stelle fisse. Sirio, per dirne una, e Orione, se non ricordo male, e l'altra. E questo perché? Perché in cielo passava il sole sulla sua barca tutti i giorni, e anche in quest'epoca in realtà si pensava che ci ripassasse anche di notte, e quindi il faraone doveva salire sulla sua barca come una stella, perché si pensava che le stelle stessero sulla barca del dio sole, e quindi identificandosi con esse avrebbe percorso quotidianamente e sarebbe quindi rinato ogni mattina perennemente come facevano le stelle. Questo era il vizio dei testi delle piramidi. Ovviamente, essendo una cosa appannaggio dei sovrani, sicuramente tutti i cortigiani avevano, così diciamo, voglia di avere questa stessa prerogativa, e in effetti noi vediamo che a partire dalla Sesta Dinastia queste formule vengono iscritte anche nelle piramidi o nelle mastabe delle regine. E invece nel primo periodo intermedio, quindi dopo che l'Antico Regno finisce, il potere politico in Egitto si frammenta e sorgono tutta una serie di potentati locali, i capi di questi piccoli regni si fanno iscrivere sulle pareti delle loro tombe questi stessi testi, ma si vede che probabilmente a causa della commistione con dei culti locali questi sovrani locali cominciano anche ad identificarsi invece con il dio Osiride. Quindi comincia a esserci un cambiamento nella teologia, e quindi l'aldilà non è più celeste come era prima, ma comincia a farsi strada all'idea di un aldilà che si trova sotto terra, vagamente una vaga idea che si potesse trovare sotto terra. In realtà gli egiziani non si chiedevano granché dove fosse, era una zona che esisteva da qualche parte del creato. Queste formule sono in parte riprese in quelli che vengono chiamati i testi dei sarcofagi. Ora, i testi dei sarcofagi si chiamano così per un motivo banalissimo, invece di essere scritti nelle tombe sono scritti sui sarcofagi. Qui vedete un bel esempio, qui in alto c'è l'esterno del sarcofago, questi sono tipici del Medio Regno, quindi un periodo tra il 1900 a.C. e il 1600 a.C., così per darvi delle coordinate, e all'interno, in realtà i sarcofagi del Medio Regno sono interessanti più all'interno che all'esterno, perché qui vedete, come vi ho raccontato l'altra volta, il fregio con tutti gli oggetti del corredo. Vedete, queste sono delle collane, qui c'è un rotolo di papiro, degli strumenti rituali, un'ascia, una spada, e qui sotto, le vedete, questo è il testo dei testi dei sarcofagi, sono queste formule magiche che vengono iscritte sempre a protezione del defunto. La cosa eccezionale di questo sarcofago è che lo stesso papiro, cioè gli stessi testi, sono riscritti anche qui come se avessero un rotolo di papiro che ne parla, quindi una specie di duplicato che garantisce la presenza dei testi. Ora, questi testi si trovano soprattutto sui sarcofagi che vengono dalle zone del Medio Egitto, quindi la parte centrale del paese, e hanno qualche formula nuova rispetto ai testi delle piramidi, molte sono riprese, sono proprio copiate, e invece c'è qualche testo nuovo, e la novità è che cominciano ad essere scritti in nero, con, lo vedete, alcune parti in rosso, che fanno da titoli o da istruzioni delle varie formule. E l'altra novità rispetto ai testi delle piramidi è che cambia anche la lingua. Ora, l'Egitto dall'esterno, in tutta la storia dei faraoni, sembra un enorme monoblocco che non è mai cambiato. In realtà i mutamenti ci sono, e sono tanti, e quelli più consistenti e più facilmente osservabili forse sono proprio quelli della lingua. Non traspare molto quando si studia geroglifico, perché i geroglifici pressa poco, restano sempre quelli. Però, studiando proprio la lingua, si vede che ci sono diverse fasi. E quindi, proprio nel passaggio tra i testi delle piramidi e quelli dei sarcofagi, si nota proprio anche un'evoluzione della lingua, che però non ci sarà quando dai testi dei sarcofagi si passerà alla redazione del Libro dei Morti. Questo cosa significa? Che la lingua in cui è scritto il Libro dei Morti è arcaizzante. Siccome quei testi dei sarcofagi avevano un'autorità, un'autorità molto importante di una lunga tradizione d'uso, quando a Tebe, circa verso il 1700 a.C., i sacerdoti elaborano questa nuova raccolta di formule, scelgono di usare la lingua delle raccolte precedenti. Ovviamente, i testi dei sarcofagi e i testi delle piramidi non scompaiono del tutto dal panorama funerario con l'introduzione del Libro dei Morti, diventano però molto marginali. Per cui, il Libro dei Morti prende piede molto rapidamente e lo si trova, diciamo, in una proporzione tra 90 a 10, quindi 90% è su 100 casi di testi funerari, 90% sono Libro dei Morti, gli altri 10% sono altre composizioni. Tra l'altro, è la composizione che dura di più nel tempo rispetto alle altre, perché viene usata quasi ininterrottamente per 1600 anni. L'unico trentennio, approssimativamente, in cui non ci sono documentati i Libri dei Morti è il periodo di Amarna, proprio perché, siccome in questo testo il defunto si identifica con Osiride e durante il periodo di Amarna l'unica divinità invece era Aten, il disco solare, ecco che i Libri dei Morti per questioni di teologia sono stati banditi, evidentemente, durante il regno di Akhenaton. Appena Akhenaton cessa di regnare, i Libri dei Morti rispuntano fuori e oserei dire quasi come funghi. Ne abbiamo, infatti, moltissime attestazioni. Questo corpus di incantesimi, qui in alto lo vedete, vi ho messo il nome in egiziano, in geroglifico, comprende un numero di circa 200 capitoli, ma non tutti i Libri dei Morti che possediamo hanno lo stesso numero di capitoli, né lo stesso ordine dei capitoli, né gli stessi capitoli. Questo cosa vuol dire? Che 200 era il numero di capitoli esistenti che si avevano a disposizione e ogni persona che ordinava un Libro dei Morti da mettere nel suo corredo sceglieva quali e quanti di questi capitoli far iscrivere sul proprio papiro. Quindi non c'era un canone vero e proprio. Vedremo nel contenuto che certi temi erano comunque toccati, però si poteva farlo scegliendo diversi capitoli. E oltretutto la varietà aumenta se si considera che non era sempre scritto su papiro. Ci sono degli esempi di rotoli di cuoio, ma anche di capitoli singoli scritti su particolari oggetti di cui parleremo tra poco. La nota curiosa ma interessante riguarda il costo di questi papiri. Lo vedete? Costava un debben d'argento. Un debben sono circa 91 grammi. Per darvi un'idea di quanto sono 91 grammi d'argento potete considerare che una fede nuziale pesa circa tra i 10 e i 20 grammi. E voi, visto che immagino che molti di voi siano sposati, la fede è d'oro, però sapete circa quanto costa. Immaginate di moltiplicarlo per 4 e immaginate che l'argento non è come per noi oggi meno prezioso dell'oro, per gli egiziani lo era di più, perché era più raro. Quindi potete farvi un'idea del corrispettivo del costo per noi oggi. Nell'antichità equivaleva a comprare ben tre asini. Essendo l'asino un animale fondamentale per il trasporto, per il lavoro nei campi e anche per il latte, potete quindi farvi un'idea abbastanza precisa di quanto effettivamente fosse costoso farsi fare un libro dei morti. Ecco, si parlava della varietà dei supporti, i primi esempi di libro dei morti che noi abbiamo non sono scritti su papiro, ma sui sudari che avvolgevano le mummie. Eccone qua, questo è addirittura il sudario del faraone Tutmosi III. Vedete, ci sono queste belle colonne di geroglifici. E questo ci fa capire una cosa, che l'importanza stava nel fatto che questo testo stesse il più possibile vicino alla mummia. Perché? Perché non era necessario leggere le formule che vi erano scritte. La vicinanza avrebbe magicamente permesso al defunto di assorbire la conoscenza che queste formule conferivano. e un altro caso emblematico di questa vicinanza è questa mummia che in realtà è di epoca tolemaica che è letteralmente ricoperta da un papiro con il libro dei morti. Eccolo qua, vedete? Forse non si vede molto che è iscritto, però vi assicuro qui ci sono tutte le colonne di iscrizione, qui c'è un disegno, è proprio un libro dei morti in cui la mummia è stata avvolta. Questi invece sono i classici rotoli di papiro per cui noi li vediamo sempre srotolati ma questa era la forma che avevano una volta confezionati e ci sono poi altri due casi particolari. Durante la venticinquesima e ventiseiesima dinastia il libro dei morti invece di stare dentro il sarcofago vicino alla mummia veniva messo nelle basi di queste statue qui. Questa divinità è Ptassocarosiride cioè una divinità ne abbiamo parlato alla lezione sugli dei che nasce dalla fusione di tre divinità diverse il dio creatore Ptas di Menfi il dio Falcossocar che era un dio funerario e il dio funerario per l'eccellenza cioè Osiride. Anche lui è una divinità funeraria e appunto serviva come protettore del libro dei morti. Sempre invece riguardo alla vicinanza gli esempi più tardi dei libri dei morti quindi quelli ormai di epoca tolemaica avanzata lo vedete questo è del 150 avanti Cristo erano su bende di mumia e quindi insomma ci sono giunte questo è un piccolo esempio queste bende di mumia in cui per metri e metri ci sono i testi e le vignette del libro dei morti. Ora come si faceva la struttura di un papiro? Innanzitutto come si fabbricava un papiro? era un lavoro piuttosto laborioso se mi passate il gioco di parole ecco qui questa è la pianta di papiro ce ne sono diverse varietà quella che usavano gli egiziani era una varietà che si trova molto poco a giorno d'oggi che ha lo stelo triangolare quindi non come i nostri papiri quelli che possiamo avere a casa che hanno lo stelo tondo aveva lo stelo triangolare e questo era comodo perché? perché una volta tagliati gli steli tutti alla stessa lunghezza lo stelo triangolare lo vedete in questa immagine poteva essere affettato in diversi modi o a strisce parallele o in maniera concentrica e si ottenevano lo vedete qui quindi delle striscioline queste striscioline venivano poi messe a bagno in maniera tale che le sostanze stesse presenti nello stelo si ammorbidissero e facessero da collante una volta debitamente bagnate venivano sistemate le vedete prima a fare uno strato di striscioline parallele poi un altro strato di striscioline perpendicolari o intrecciate così o semplicemente sovrapposti poi battendo le fibre vegetali con un martello le sostanze che erano state ammorbidite con l'acqua e schiacciano le fibre vegetali una con l'altra e permettono a tutte le strisce di papiro di incollarsi e così si ottenevano dei fogli ora per ottenere poi un rotolo lungo e ce ne sono il più lungo il rotolo di papiro più lungo che conosciamo è lungo circa 40 metri quindi è come quasi un intero isolato e per ottenere questi rotoli così lunghi ovviamente bisognava prendere una serie di fogli e incollarli insieme le colle che si potevano usare sono come fino a qualche secolo fa di origine naturale quindi animali o vegetali e abbiamo testimonianza che in alcuni casi questi fogli di papiro venivano decorati prima di essere incollati l'uno con l'altro perché sulle incollature si vede che ad esempio i bordi decorativi non combaciano l'uno con l'altro quindi si è capito che in certi casi i rotoli venivano decorati prima per fogli e poi incollati e questo può avere a che fare con la selezione dei capitoli da parte del proprietario del futuro proprietario per cui se uno ha dieci fogli con il capitolo che ne so mettiamo 120 e così per tutti i vari capitoli a seconda dei capitoli che ogni proprietario se lieva si prendevano i fogli già pronti li si incollavano ed ecco che era molto più rapido fornire un papiro la struttura l'aspetto del libro dei morti questo è un esempio del British Museum è molto bello e lo vedete c'è il testo che normalmente è in questa versione del geroglifico un po' più corsivo perché ovviamente è scritto a pennello e gli esempi più tardi invece la scrittura negli esempi più tardi la scrittura cambia diventa ieratico quindi una versione corsiva molto più semplificata in cui i segni tante volte hanno delle legature e quindi diciamo mediamente parecchio più difficile da leggere ma la cosa interessante è che come già per i testi dei sarcofagi gli inizi dei capitoli e alcune istruzioni legate al modo di recitare le formule alcune formule vengono scritti in rosso quindi nei manoscritti diciamo dove ci sono ad esempio invece di avere un testo continuo come in questo caso ci sono delle singole pagine cioè quindi delle colonne di testo alternate alle immagini è carino perché si vede proprio un'impaginazione molto accurata con l'inizio in rosso all'inizio della pagina il capitolo un po' come i nostri capoversi immaginate che noi nei capoversi per tradizione scrivessimo le prime tre quattro parole in rosso ecco questo è più o meno l'effetto e poi molti dei capitoli erano corredati da quelle che vengono chiamate vignette perché in certi casi sono proprio dei riquadri in mezzo al testo in questo caso invece sono una fascia continua al di sopra che diciamo fanno proprio da illustrazione al contenuto di alcuni dei capitoli ora veniamo al sodo queste formule si chiamano formule perché perché si pensava in teoria dovevano proprio essere recitate infatti i capitoli iniziano o con le parole gedmedu cioè parole che vanno dette da parte del proprietario del papiro due punti aperte virgolette e comincia il testo del capitolo oppure proprio con la parola che in italiano noi di solito traduciamo capitolo ma che più correttamente andrebbe tradotta incantesimo che letteralmente non è altro che una bocca con un trattino sotto ecco il fatto che ci sia una bocca indica proprio il fatto che queste erano parole che per essere efficaci dovevano essere pronunciate chi le doveva pronunciare ovviamente idealmente l'anima del defunto nel suo viaggio nell'oltretomba ma nel caso di alcuni capitoli si capisce dal contenuto che è probabile che alcuni di questi testi venissero anche recitati come rituale durante i funerali quindi ecco che effettivamente il valore diciamo di pronuncia di questi testi è rispettato in qualche modo ora vi dicevo non c'è un canone fissato per il contenuto dei libri dei morti però ci sono dei gruppi di capitoli che hanno dei contenuti che sono più o meno sempre presenti e adesso li vediamo normalmente i papiri si aprono con una scena di adorazione di Osiride la vedremo poi anche nel papiro di Trieste è presente così ve ne farete un'idea i primi 14 capitoli sono proprio la parte diciamo rituale del testo narrano l'arrivo del defunto nell'aldilà e la processione funeraria che vi ho raccontato l'altra volta e tutti i riti con inni e preghiere agli dei che sono connessi a questo momento dopodiché c'è un capitolo piuttosto importante e che dà l'idea del contenuto di molti altri in cui il defunto viene identificato con il dio Atum questo perché per ottenere tutte le caratteristiche i poteri magici che quel dio aveva non è il solo capitolo di questo tipo di volta in volta il defunto si identifica con varie entità con varie divinità proprio per assorbirne i poteri che gli permetteranno di compiere il suo viaggio nell'aldilà con maggiore efficacia e vedete infatti questo capitolo è seguito da altri che servono proprio per ottenere determinate abilità che saranno utili un gruppo piuttosto importante è quello dei capitoli invece che servono a fare in modo che il cuore non venga strappato via dal defunto nell'aldilà ora questo perché è un gruppo di capitoli importante perché il cuore serviva per la pesatura dell'anima e quindi se il cuore veniva portato via prima che questa pesatura avvenisse il defunto non avrebbe mai avuto la possibilità di entrare nel paradiso degli egiziani e quindi ecco che queste formule magiche sono importanti tanto che il capitolo 30b che vedremo tra poco viene iscritto non solo nel libro dei morti ma anche sugli amuleti cosiddetti scarabei del cuore che venivano posti sul petto il cui testo appunto serve per fare in modo che il cuore non testimoni contro il proprietario durante il giudizio poi un'altra cosa di cui il defunto aveva bisogno nel suo viaggio dell'aldilà era proteggersi dagli animali pericolosi e da tutti i tipi di pericoli che poteva incontrare e questo viaggio per gli egiziani non era un viaggio affatto facile c'erano un sacco di esseri mostruosi di persone pericolose di località da evitare e quindi questi incantesimi servono proprio per evitare tutti i possibili problemi e ovviamente essendo un lungo viaggio c'era bisogno anche di formule che gli garantissero il sostentamento durante il viaggio quindi l'aria per respirare e l'acqua da bere ovviamente come tutti i popoli l'idea istintiva che si ha dell'oltretomba è comunque quella di un luogo buio basta pensare al fatto che una tomba chiusa comunque dà l'idea già di buio e di mancanza di aria e dal momento che per gli egiziani il soffio della vita il concetto di soffio della vita era fondamentale è facilmente comprensibile come dei capitoli dovessero assicurare proprio il fatto che il defunto avesse aria da respirare e dopodiché c'è la questione della mobilità dello spostarsi all'interno di questo enorme e complicato oltretomba e quale modo migliore di trasportare per muoversi se non trasformarsi in animali o in entità che sono mobili per eccellenza come ad esempio gli uccelli ci sono diversi capitoli che mostrano come il defunto poteva trasformarsi ad esempio in rondine o in altri uccelli in maniera tale da potersi avere libertà di movimento e un'altra trasformazione emblematica da questo punto di visto è imba che era raffigurato sempre come un uccello dalla testa umana che era una delle componenti del defunto quella che noi di solito traduciamo come anima e quindi anche quello per garantire proprio la possibilità di muoversi liberamente uno invece dei capitoli fondamentali che c'era sempre nelle redazioni del libro dei morti era il capitolo 89 che garantiva che il ba del defunto non fosse mai separato definitivamente dal corpo questo perché era molto importante perché l'entità l'essere umano per gli egiziani quando era completo era composto da diverse entità la prima era il corpo ed è per questo che il corpo deve sopravvivere anche dopo la morte poi c'era il ka che è l'energia vitale proprio la forza vitale il ba che è quello che noi normalmente traduciamo come anima poi c'erano il nome e l'ombra ora il nome è una cosa che per noi è strana ma per gli egiziani conoscere il vero nome di una persona significava avere totale controllo di quella persona il nome era una cosa così potente che il proprio vero nome era una cosa da tenere nascosta ad esempio soprattutto nel caso ad esempio del faraone o degli dei c'è il mito infatti che narra come Iside per accrescere i suoi poteri magici abbia dato vita a un serpente plasmandolo dall'argilla il quale ha morso il dio Ra e siccome lei era l'unica che aveva i poteri in grado di guarirlo è riuscita a farsi dire il nome segreto di Ra dicendogli io non posso guarirti se non so il tuo nome ma questo una volta saputo il nome le ha garantito il totale potere persino sul dio creatore dell'universo e quindi potete immaginare quanto importante fosse il nome per gli egiziani ci sono poi appunto invece tutta una serie di formule che danno quelle che io chiamo la guida turistica dell'aldilà cioè danno delle indicazioni su quali luoghi si incontreranno quali pericoli si dovranno affrontare come gestirli vedremo poi un esempio specifico invece l'altro capitolo che c'era sempre è proprio quello della cosiddetta psicostasia cioè pesatura del cuore o dell'anima cioè il giudizio dell'anima del defunto per stabilire se era degno o no di entrare nell'aldilà ma adesso noi entriamo nello specifico e vediamo di leggere un po' di questi capitoli per renderci conto anche del tono con cui gli egiziani appunto li scrivevano partiamo da quelli fondamentali il capitolo 89 vedete qui c'è il titolo formula per riunire il Ba al proprio cadavere nella necropoli a dirsi da parte dell'osiride Enne qui si metteva ovviamente il nome giustificato o tu Dio che porti o tu Dio che corri nella tua cappella o Dio grande concedi che la mia anima possa venire a me da qualsiasi luogo in cui si trovi ma se vi è un ritardo nella venuta della mia anima a me da qualsiasi luogo in cui si trovi tu troverai l'occhio di Orus ergersi contro di te come quelle divinità vigilanti che giacciono in Eliopolis la terra dove milioni si riuniscono fa che il mio Ba sia afferrato insieme a Lach che è con lui da ogni luogo in cui si trovi rintraccia in cielo e in terra il mio Ba o voi dei che trainate la barca del Signore di milioni di anni concedete che il mio Ba possa giungere al vostro seguito dall'orizzonte orientale del cielo ora lo vedete la preoccupazione qual era siccome il Ba poteva presto a poco andare e venire come voleva la paura era quella che andato troppo lontano non fosse più in grado di ritornare al corpo il problema è che per garantire la sopravvivenza del Ba ogni sera questo doveva tornare nella tomba per riposare all'interno del corpo mummificato e per nutrirsi delle offerte che venivano poste nella tomba e quindi era una preoccupazione appunto molto forte degli egiziani che questo Ba fosse effettivamente in grado di tornare e la vignetta assolutamente deliziosa secondo me che a volte accompagna questo capitolo raffigura la tomba vedete questa è la cappella esterna quella accessibile alla famiglia il pozzo funerario la camera del sarcofago con il suo bel sarcofago qui addirittura c'è tutto il corredo questi sono un paio di sandali e qui lo vedete questo è il Ba che sta tornando dalla sua mummia l'altro capitolo fondamentale dicevamo il 125 che è un capitolo molto lungo e complicato ora nella immagine vedete solo una parte di questo capitolo è quella che viene chiamata la confessione negativa adesso scoprirete esattamente che cos'è il capitolo comincia con una dimostrazione di conoscenza magica da parte del defunto ci sono i guardiani delle porte del tribunale divino che gli sbarrano il passo e lui deve dimostrare di conoscere i loro nomi conoscere il nome della sala affinché gli sia garantito l'accesso non contenti di questo subito dopo sono gli elementi stessi della porta gli stipiti le ante della porta il pavimento i cardini che impediscono all'anima del defunto il passaggio noi non ci apriamo se tu non ci dici come ci chiamiamo e volta per volta il defunto in questo capitolo dice ah tu sei il battente di oro che abbraccia la montagna e così via alla fine una volta che anche le porte si sono aperte c'è il dio Thoth che ha il ruolo proprio di cancelliere del tribunale quindi che fa entrare l'anima del defunto per il giudizio e che ne prende nota durante appunto come se stenografasse gli atti diciamo di questo processo che gli dice le seguenti parole perché sei venuto e l'anima risponde per essere annunciato qual è la tua condizione sono libero da ogni peccato a chi dovrei annunciarti a colui il cui soffitto è fuoco le cui pareti sono urei viventi e il cui pavimento è la piena chi è costui è Osiride questo è appunto il dato fondamentale Osiride è il presidente del tribunale divino il tribunale divino non è composto ovviamente solo da Osiride ma li vedete qui in fila da 42 dei ben 42 divinità e la confessione negativa è una lunga formula in cui l'anima del defunto si rivolge a ciascuna di queste divinità e per ciascuna di esse nega di aver commesso uno specifico peccato fino a coprire tutta la gamma di peccati concepibili per gli antichi egiziani e questi sono qualche esempio o tu che vai lontano che vieni da Eliopoli non ho commesso falsità o tu che abbracci il fuoco che vieni da Keraha non ho saccheggiato o inghiottitore di ombre che vieni dalla caverna non ho rubato o pericoloso che vieni da Rostau non ho ucciso uomini o fiamma che vieni all'indietro non ho rubato le offerte del Dio o rompi ossa che vieni da Eracleopoli non ho mentito o mangiatore di interiore che vieni dalla casa dei trenta non ho commesso spergiuro o disturbatore che vieni da Werit non sono stato irascibile o serpente che porta e che dà che vieni dalla terra silenziosa non ho bestemmiato il Dio della mia città e così via per 42 voci che ovviamente non ho messo tutte vedete comunque già da questa breve selezione che molte di queste sono legate al comportamento corretto nei confronti dei templi e della divinità questo ha fatto ritenere a molti studiosi che in questo testo ci sia un eco proprio delle pratiche cultuali e infatti questo testo si vede che è espressione proprio dell'ambiente sacerdotale questi sono i piccoli indizi sparsi nel testo che ci permettono di capirlo questo capitolo è sempre accompagnato poi da una vignetta in questo caso un'illustrazione molto grande di solito prende tutta l'altezza della pagina del papiro in cui è raffigurato proprio Osiride che di solito sta a destra in questa foto non c'è ma qui sotto lo intravedete qui sotto le scrostature della vernice che presiede il tribunale qui c'è il tribunale degli dei e la parte centrale della scena è costituita proprio dalla pesatura del cuore perché cosa succedeva dopo aver negato questi 42 peccati il cuore del defunto veniva preso messo sulla bilancia assieme alla piuma mat quindi alla piuma della verità della giustizia il dio Anubi sovrintende alla pesatura e se il cuore e la piuma sono in equilibrio significa che l'anima non ha mentito durante la confessione negativa e quindi è degno di superare il giudizio e di entrare nel paradiso se invece l'anima il cuore scusate fosse stato più pesante della piuma questo indicava una coscienza sporca e quindi l'anima indegna di entrare nel paradiso sarebbe stata mangiata da questo mostro che si chiama Ammit e giusto perché lo sappiate è un nome femminile prendete nota io non vorrei dire ma ogni tanto un po' di misoginia così serpeggia che lo vedete è composto da una testa di coccodrillo la parte anteriore di un corpo di leone di solito e la parte posteriore di un coccodrillo quindi questi mostri compositi così cari agli egiziani questa immagine qui sotto e vedete c'è il defunto a destra e anche qui la bilancia e anche qui il diotot che prende nota qui e qui qui c'è Osiride e qui non si vede in compenso qui non c'è il mostro e qui sì questo è presente su uno dei sarcofagi che ci sono in museo chi di voi ha già fatto le visite guidate l'ha già visto perché di solito questa è una cosa che faccio vedere sempre chi deve ancora venire lo vedrà domani ma il problema è che a un certo punto appunto si arrivava nel paradiso degli egiziani ma questo paradiso secondo loro era un paradiso agricolo cioè il paradiso era una valle molto fertile molto simile al delta egiziano quindi con canali con monticelli di sabbia da coltivare e così via quindi era una terra da coltivare il problema qual è? che nessuno ha voglia di dover lavorare i campi per l'eternità io credo e quindi le persone nobili che erano quelle che potevano permettersi tra l'altro un papiro un libro dei morti eccetera ricorrevano agli ushabti gli ushabti è una parola egiziana che significa rispondenti o rispondente veramente al singolare e sono dei sostituti del defunto qui ne vedete un bel esempio che abbiamo sui museo vedete la sua bella iscrizione lungo le gambe e a cosa servivano? Servivano per lavorare al posto dell'anima del defunto la formula che è iscritta sugli ushabti compare proprio anche come capitolo 6 nel libro dei morti e dice questo l'illuminato l'osiride in questo caso ho preso proprio l'iscrizione dell'ushabti così la rendiamo efficace l'illuminato l'osiride lo scriba regale capo dei responsabili del palazzo e direttore della festa di Amorra Tot Hotep giustificato dice o questo ushabti se verrà contato se verrà chiamato per eseguire ogni lavoro che deve essere fatto nella necropoli per coltivare i campi ecco egli ha superato le difficoltà nel farlo per irrigare le rive per trasportare la sabbia da est a ovest in quanto uomo che sta al suo posto se verrà contato in ogni momento per lavorare come servo dirà eccomi o osiride sindaco Tot Hotep l'idea che c'è dietro questa formula qual è? che questa statuetta si sarebbe animata e sarebbe andata a lavorare al posto del proprietario è una cosa che tutti vorremmo avere ma la delusione che vi devo dare è che purtroppo funziona solo dopo morti e quindi dobbiamo rinunciare ad usarle l'altro capitolo interessante è proprio il 30b quello per fare in modo che il cuore non testimoni contro il proprietario questo è un bel esempio molto ricco lo vedete con la sua incastonatura in oro e il suo colliere è un bello scarabio in basalto è curioso perché non hanno iscritto il nome del proprietario vedete questo spazio vuoto vuol dire che non c'è stato il tempo se sono dimenticati chi lo sa come mai comunque il testo del capitolo dice questo qui in alto dice da dirsi da parte dell'osiride e gli dice due punti e poi comincia ho cuore mio ho cuore di mia madre ho cuore delle mie varie forme cioè di tutte le componenti della personalità egiziana non alzarti a testimoniare contro di me non opporti a me nel tribunale non essermi ostile al cospetto del guardiano della bilancia perché tu sei il mio cacca era nel mio corpo il protettore che ha reso sane le mie membra procedi verso il luogo felice dove ci stiamo affrettando non fare che il mio nome puzzi per l'equipaggio che fa gli uomini non mentire su di me alla presenza del dio è davvero bene che tu mi di ascolto ora vedete alla fine c'è anche una velata minaccia verso il proprio cuore non sappiamo bene come intendere ma questo è e come vi dicevo poc'anzi ci sono anche alcuni capitoli al di fuori tra quelli fondamentali che vi ho appena mostrato che vengono iscritti su particolari oggetti per renderli maggiormente efficaci ad esempio il capitolo 156 su questo bellissimo amuleto in corniola che dice tu hai il tuo sangue oiside tu hai il tuo potere oiside tu hai la tua magia oiside l'amuleto è una protezione per questo grande che terrà lontano chiunque cerchi di commettere un crimine contro di lui lo vedete questo l'ultima frase spiega in realtà non è parte integrante del testo della formula ma è una spiegazione di quello a cui la formula serviva ci sono sparsi per tutto il testo del libro dei morti moltissimi di questi commenti o addirittura ci sono delle istruzioni ad esempio del tipo questo incantesimo va recitato va scritto su un foglio di papiro che va rotolato e messo sul collo della mummia quindi inframmezzati alle formule magiche vere e proprie ci sono proprio tutte queste istruzioni su come appunto rendere più efficace possibile la magia che deve aiutare il defunto un altro capitolo piuttosto simpatico che lo vedete iscritto su un poggiatesta infatti il titolo è il capitolo per il poggiatesta dice questo svegliati le tue sofferenze sono placate o tal dei tali tu sei sveglio quando la tua testa è sopra l'orizzonte alzati tu trionfi grazie a quello che ti è stato fatto cioè a tutti gli incantesimi non è che gli è stato fatto qualcosa di male pta ha annientato i tuoi nemici è stato ordinato cosa debba essere fatto di te tu sei orus figlio di ator la fiamma nata dalla fiamma la cui testa gli è stata restituita dopo che era stata tagliata la tua testa non sarà più allontanata da te d'ora in poi la tua testa non ti sarà più portata via vedete questo è uno di quei capitoli che servono a mantenere l'integrità del corpo e l'importanza della testa per gli egiziani non stava tanto nel cervello come possiamo pensare noi che era uno degli organi che l'unico organo anzi che durante l'imbalsamazione veniva estratto e buttato via ma sta nel fatto che la testa è quello che permette di identificare una persona l'importanza della testa sta nel viso perché il viso è quello che ci permette di riconoscere una persona quindi era quello che avrebbe permesso alba di riconoscere quel determinato cadavere scusate il termine come il suo ecco quindi questa è l'importanza della testa e ora io direi che ci prendiamo il gusto di esaminare da vicino e con attenzione il quattro fogli del papiro del libro dei morti che possediamo in museo a trieste visto poi per chi lo ha già visto per chi lo vedrà così avrà il piacere appunto di capire meglio che cosa c'è sopra questo papiro grazie alle informazioni sul proprietario che vengono date in esso eccetera e allo stile delle immagini si è capito che è stato fatto è stato anche utilizzato a Tebe e per di più durante determinati regni della diciottesima dinastia quindi tra il 1490 circa e il 1390 avanti Cristo in quel secolo lì pressa poco e i quattro fogli che abbiamo a Trieste non sono tutto il papiro sono parte di un papiro più lungo che era lungo nel complesso 15 metri ora il resto del papiro per nostra fortuna non è andato perduto è conservato al museo egizio del Cairo fortunatamente lo studioso che ha pubblicato questo papiro che con nome tecnico si chiama Papiro Bulac 21 ha riconosciuto l'identità delle mani e quindi ha potuto pubblicarlo tutto assieme e quindi dalla pubblicazione riusciamo ad avere un'idea di com'era il papiro nella sua interezza a colori qui vedete i fogli conservati al museo di Trieste e dovete immaginarvi che queste cinque strisce fossero un'unica striscia lunghissima ma questo è per darvi l'idea di quanto grande era il papiro e di quanto noi andremo adesso a leggere insieme cominciamo ecco questa è la scena dell'adorazione di Osiride di cui vi parlavo prima questo è proprio il foglio iniziale del papiro e vedete qui il proprietario qui due figure femminili che adesso scopriremo di chi si tratta che adorano il dio Osiride seduto sotto un bel baldacchino ed ecco qui i testi il proprietario questi sono i geroglifici che stavano sopra la testa del proprietario e vediamo qua ci dice che è lo scriba contabile delle mandrie di Amon Amenhotep ora il tempio di Amon è proprio il tempo di Amon a Karnak di cui avete visto le due immagini prima non erano lì per caso e quindi sappiamo che questo è un sacerdote o comunque parte del personale amministrativo del tempio di Amon e a Karnak nell'arco di quel secolo quindi tra il 1490 e il 1390 avanti Cristo delle due donne che erano dietro di sé la prima diciamo la figura in mezzo tra le tre è sua moglie la signora della casa Uret quindi ha ritenuto opportuno ricordare anche sua moglie ma anche sua figlia vedete questa è la parola figlia sua figlia Takat quindi c'è diciamo il nucleo familiare principale che il proprietario del papiro a cui il proprietario del papiro ha voluto rendere omaggio facendoli disegnare sul proprio papiro e questo invece è il testo relativo ad Osiride Osiride Dio Grande la prima colonna Osiride principe dell'eternità la seconda e invece la terza e la quarta assieme Osiride signore di Busiris Dio Grande signore di Abido ed ecco qui quindi se non fosse chiaro che quello era il Dio Osiride ci viene specificato il secondo foglio è diviso diciamo in tre parti c'è una vignetta un testo in colonne e poi la parte dove ci sono raffigurate queste sette porte adesso le vediamo un pezzetto alla volta nella vignetta i geroglifici danno semplicemente i nomi di chi è sulla barca quindi Iside Tot Kepri il Dio del Sole dalla testa di Scarabeo Shu il Dio dell'Aria e poi troviamo lo scriba Menotep che come ci si augurava è riuscito a salire sulla barca del Sole e quindi compie ogni giorno il ciclo di morte e rinascita assieme al Sole nelle colonne invece c'è il capitolo 100 appunto che è proprio relativo al fatto che il defunto sale sulla barca del sulla barca solare e vedete io ora non ve lo leggo tutto ecco qua vedete in rosso scrivono in questa sezione qui il capitolo sarà recitato sopra un disegno vedete queste sono le istruzioni di cui vi parlavo prima e quindi vedete qui egli potrà così salire nella barca di Ra regolarmente ogni giorno il Diotto avrà cura di lui dal momento del suo arrivo moltissimo nella barca di Ra e lo spirito sarà eccellente quindi questo era lo scopo di questo capitolo ora poi c'è questa riga di geroglifici la cui unica altra versione esistente è in questo papiro del British Museum e che purtroppo non si capisce bene che cosa dica e dobbiamo arrenderci all'evidenza purtroppo devono aver copiato male dalla copia originale e quindi quello che leggiamo non ha granché senso tra l'altro i geroglifici ci sono scritti un po' in un verso un po' in un altro quindi vuol dire che ci sono effettivamente stati problemi nella copiatura ma ecco qui invece le sette porte che il defunto deve attraversare per proseguire nel suo viaggio ad esempio la prima porta vedete qui c'è il nome è molto regolare qui c'è sempre il numero della porta il nome un nome che o è il nome della porta o di un guardiano il nome del primo guardiano è il nome del secondo guardiano che in realtà è un messaggero e quindi questo dice la prima porta poi qui colui che distende il petto qui dice testimone è il nome del guardiano quello con il viso girato è il nome del messaggero che sta là e così via per tutte le porte in realtà la cosa interessante in questi casi sono proprio i nomi colui che vive di serpenti volto che veglia il fuoco grande volto che colpisce oppure grossa voce colui che porta il cuore colui che mangia le decomposizioni volto di pietra colui che alza il volto di popotamo e modellatore di pani sono nomi piuttosto bizzarri che dovevano suonare come tali anche gli antichi egiziani probabilmente essendo nomi di demoni dovevano essere nomi che in qualche modo facevano anche piuttosto impressione c'è poi il terzo foglio lo vedete anche qui ci sono sette colonne di geroglifici e poi quattro registri quattro colonne con un elenco un elenco piuttosto interminabile ma adesso vedrete il motivo per cui c'è questo elenco allora delle sette colonne le prime cinque a sinistra sono il capitolo 171 il cui titolo in rosso lo vedete qui vedete c'è la bocca con il trattino sono proprio l'inizio del capitolo che vi ho fatto vedere prima e dice invocazione per la vestizione con la veste consacrata quindi essere e poter entrare nel paradiso era anche una questione di essere abbigliati propriamente bisognava avere una veste nuova immacolata indossare dei sandali bianchi perché il bianco era comunque anche nell'antico Egitto colore di purezza e quindi questo capitolo si augura che il defunto possa avere a disposizione questa veste e infatti vedete l'invocazione oatum shu tefnut geb nut osiride eccetera ve li salto arriviamo tutti gli dei possibili immaginabili sobe con tutti sui molti nomi o dei del nord del sud del cielo in terra ecco vedete che due terzi del capitolo è dedicato solo all'elencazione di una serie di divinità a cui questa invocazione andava rivolta il succo invece è questo vogliate concedere questa veste consacrata all'eccellente Ach di Amenhotep vogliate concedere la vostra benedizione ed allontanare il male che gli è proprio questa veste consacrata assegnategli dunque per l'eternità nei secoli dei secoli ed eliminate il male a lui proprio ecco qui quindi questo è un capitolo proprio per la purificazione del defunto e per la vestizione con una veste nuova ancora mai toccata da impurità le altre due colonne invece sono l'inizio del capitolo a cui vanno associate quell'elenco che vi ho mostrato prima l'inizio è questo formula che una persona dovrebbe recitare per suo padre o suo figlio nelle feste dell'occidente come vi ho raccontato ci sono delle feste in cui le famiglie andavano nelle necropoli e passavano la giornata assieme ai propri cari defunti e magari facendo anche un pasto nel cortile della tomba e quindi siccome si faceva in occasione di certe festività ci si andava anche perché bisognava evidentemente recitare determinate formule ed ecco qui egli sarà reso perfetto presso Rai e gli dèi e sarà con essi va recitata il giorno della festa del nove del mese da parte dello scriba Menotep giustificato e di sua moglie Uret vedete che il libro dei morti è stato fatto per entrambi i coniugi perché statisticamente si è visto che effettivamente i proprietari di libro dei morti sono quasi sempre maschi solo durante la ventunesima dinastia invece le donne avevano il proprio papiro perché normalmente le donne sposate sono associate nel papiro dei mariti probabilmente per economia visto quanto costavano insomma quindi qual è la formula che uno deve o meglio quali sono le divinità alle quali bisogna recitare questa formula eccole qua queste sono le quattro colonne e vedete comincia giustamente con Osiride che è a capo dell'occidente poi nomina tutti gli dèi più importanti gli dèi primievi quindi della creazione del mondo Atom Shu Tefnut Geb le personificazioni degli elementi naturali Nun Mat giustamente la giustizia poi ci sono delle divinità molto meno identificabili come la grande amata con i capelli rossi o con lei che si unisce alla vita la colorata la dea il cui nome è possente nella sua arte ecco queste sono divinità che noi francamente non conosciamo se non con questo nome poi continua evidentemente con i nomi di divinità vedete il buon timone del cielo del nord dell'ovest dell'est del sud questo fa pensare assieme a questo enorme elenco di divinità a una sorta quasi di ricorda da vicino le processioni che ogni mattina i sacerdoti facevano nei templi per portare le offerte non solo alla divinità principale ma anche a tutte le cappelle di culto delle divinità che erano associate all'interno degli stessi templi perché ce n'erano moltissime e come capita che in una chiesa adesso oltre al santo principale all'altare principale ci siano diversi altri altari così succedeva anche nei templi dell'antico Egitto e quindi questa cosa soprattutto questa menzione dei quattro punti cardinali fa pensare che proprio la recitazione di queste formule avvenisse ripetuta ciascuna volta in ogni direzione e questo quindi è il clou del capitolo e vedete poi per essere sicuri di non dimenticarsi nessuno gli dei del sud del nord dell'ovest dell'est gli dei delle offerte i gruppi di divinità proprio per essere sicuri appunto di non dimenticarselo poi c'è un gruppo vedete le porte della duat i piloni della duat la duat è il nome che gli egiziani davano a loro oltretomba quindi si passa prima agli dei dei vivi poi si passa agli dei dei morti vedete le porte segreti i piloni segreti segreti perché sono nella duat e un vivo non le vede scusatemi e poi cominciano a metà della terza colonna cominciano tutti i nomi di Osiride Osiride aveva moltissimi nomi e in questo capitolo sono elencati perché bisognava recitare la formula ogni volta per ciascuno di questi nomi questa è l'ultima vedete è dedicata tutta sono sono almeno penso una quarantina di nomi in totale e quindi questa è l'idea che stava dietro a questo capitolo il papiro invece poi si chiudeva vedete qui si capisce subito c'è la bordura che si chiude con questa scena di cui vi ho già parlato che è quella della cerimonia dell'apertura della bocca vedete qui c'è la mummia del defunto di solito è raffigurata magari anche la cappella della tomba qua dietro perché questo rituale avveniva durante il giorno dei funerali davanti proprio all'ingresso della tomba in questo caso hanno ritenuto di no però hanno fatto un lavoro così bello nella raffigurazione del sarcofago di Amenhotep che dallo stile si è potuta dedurre la datazione così precisa perché questo tipo di sarcofagi così a fondo nero con le bande gialle o in realtà nella realtà quando si poteva d'oro di foglia d'oro e le figure così è proprio tipico di quel centinaio di anni che vi ho detto prima quindi tra il 1490 e il 1390 e di questo siamo grati all'artista che ci ha dato questa bella indicazione lo vedete c'è una persona che versa l'acqua per purificare il sarcofago c'è una tavola di offerte vegetali insomma comunque di cibo c'è un'altra personcina piccola che tiene in piedi il sarcofago e infine una terza persona raffigurata con la pelle di leopardo tipica dei sacerdoti funerari come vi dicevo che è in mano quello bizzarro strumento che serve proprio per l'apertura della bocca quella cerimonia che vi ricordo serviva proprio per dare restituire alla mummia l'uso dei cinque sensi in maniera tale che appunto una volta nella tomba fosse libera di muoversi di respirare di parlare di mangiare soprattutto le offerte funerarie e di respirare quindi queste sono questo è il rituale adesso scopriamo chi sono questi personaggi il sacerdote con la pelle di leopardo altri non è che suo figlio Ryu e ci viene dato il nome quindi di altri componenti della sua famiglia in realtà appunto questa è una bella indicazione perché tradizionalmente era proprio il figlio maggiore che doveva fare i riti funerari sulla mummia del padre ovviamente quando non era possibile c'era per forza un sacerdote pagato specificamente per quello però la tradizione voleva che fosse proprio il figlio poi c'è un altro figlio che è quello che purifica il sarcofago del padre e anche qui l'iscrizione dice proprio questo suo figlio Nebuau mentre compie la purificazione per suo padre e poi sopra il sarcofago c'era questa iscrizione qua e gli egiziani per dovere di precisione dicono che quello è proprio il sarcofago cioè il signore della vita questo era il nome che gli egiziani davano al sarcofago dello scriba Amenhotep come se avessimo ancora qualche dubbio a riguardo e infine cosa un po' bizzarra la piccola personcina che teneva in piedi il sarcofago è di nuovo suo figlio Nebuau ora è difficile pensare in realtà che Amenhotep avesse due figli con lo stesso nome può essere in alcuni casi succede soprattutto con le figlie c'è Aset la maggiore e Aset la minore ci sono attestazioni di figli con lo stesso nome però si può spiegare anche con un'altra cosa cioè con i canoni di rappresentazione possiamo immaginare che questa scena sia riassuntiva cioè che prima Nebuau purifichi il sarcofago con l'acqua del padre poi passi dietro lo tenga fermo mentre l'altro figlio Ryu fa l'apertura della bocca quindi ci sono queste due possibilità e allo stato delle nostre conoscenze non possiamo scegliere nessuna delle due e quindi questo è appunto vedete in linea di massima il contenuto di questa composizione che vi ribadisco non aveva un canone fisso per cui vedete insomma ogni proprietario ogni sacerdote perché per lo più ovviamente essendo cose costose erano fatte da gente che sapeva che cosa andava a scegliere quindi che era in grado di scegliere quel capitolo piuttosto che un altro e questo è un esempio tipico quindi di un papiro del periodo d'oro diciamo di questa composizione man mano che il tempo passava quindi verso le tatole maica la proporzione tra testo e immagini si inverte cioè essendo i papiri diventano sempre più piccoli quindi più bassi e più corti indice comunque di un minor costo e siccome la parte più costosa era pagare qualcuno che lo scrivesse che andasse nel tempio a copiare gli originali appunto il testo si riduce a favore delle immagini che ormai sono codificate sono canoniche e quindi qualunque artista può disegnarvele su un papiro e quindi i papiri più tardi sono molto più piccoli hanno quasi esclusivamente le immagini soprattutto la scena della pesatura del cuore ci sono dei papiri lunghi poco più di un metro che hanno soltanto quasi questa scena e quindi questa è l'evoluzione che poi questi papiri hanno e evidentemente indice poi del fatto che scusatemi indice del fatto sì che una maggiore quantità di persone poteva permettersi questo questo tipo di testo grazie allora qui per chi ne avesse ancora bisogno c'è riportata tutti i libri che io ho nominato durante queste lezioni gli ultimi tre sono quelli di oggi per cui se ancora vi serve di copiare qualcosa ve li lascio qui grazie grazie grazie